Grande atleta in giro di veramente buono, mi ha fatto un notevole salto di qualità dei marchi Thomas grande rispetto nei confronti di Peter Kovac e si dia inizio a questa grande sfida Due grandi campioni Peter Kovac con il primo, applauso la prima di Carmela Dapice con la terza al mondo Carmela Dapice, un gran cosciente con la grande preta ungherese terza che è al mondo col braccio destino Go, go, go Stop, stop Un caldo a Peter Kovac vince Peter Kovac vince questa sfida Carmela sicuramente più svantaggiata molto più forte di sinistra almeno c'ha il braccio da più Ok, niente da fare Un bel applauso a tutti e due